Quando io dico che l'amministrazione Melucci se ne strafotte letteralmente dei cittadini, io ve lo dimostro ogni giorno. Oggi sono al quartiere Salinella, in via Lago di Varano, quasi ad angolo con via Ancona. Guardate qui un tombino da mesi e in questa condizione. Il coperchio, la copertura di ferro è scomparsa, si sarà rotta, non si sa cosa sia successo. Guardate, è aperto, è scoperto, è pericolosissimo. Qui qualcuno può finirci dentro. Una situazione assurda. Il solito cliché. Giustamente viene segnalato il caso, viene messa la transenna della polizia locale, giustamente la polizia fa il suo dovere, transenna, cerca di mettere in sicurezza l'area, però poi l'amministrazione non provvede a che l'area sia definitivamente messa in sicurezza. Qui bisogna, occorre, chiamare, ora non so di chi sia la competenza, credo che forse Acquedotto Pugliese, credo. In ogni caso l'amministrazione dovrebbe chiamare Acquedotto Pugliese e dovrebbe dire che dobbiamo chiudere questo tombino, se Acquedotto Pugliese. In ogni caso ci deve essere un intervento dell'amministrazione attraverso il quale definitivamente l'amministrazione lo mette in sicurezza. Se l'ente preposto non lo fa, allora tua amministrazione lo fai a tue spese e poi ti rivali sulla ditta che non ha provveduto. Ma in ogni caso non è certamente un… è una situazione gravissima. Cosa aspettiamo? Che un bambino vada a finire dentro? Guardate, guardate com'è profondo. Credo che sia roba di Acquedotto Pugliese, credo, ma non lo so, non sono sicuro. In ogni caso voglio dire, qui il tombino, caro Melucci, caro Assessore ai lavori pubblici, va coperto. E siccome qui sembrano le ciliegie che vanno sempre a due a due, ci spostiamo, attraversiamo la strada e vedete qui altra situazione, altro tombino scoperto. Qui addirittura, guardate un po', artigianalmente avevano messo un pezzo, un quadrato di compensato di legno. Pensate un po', a questo punto siamo arrivati. Oltre al fatto che c'è un porcile mai visto, vedete qui gli aghi di Pini e quindi le caditoie che si otturano, si intasano e poi ovviamente vediamo che quando piove qui si allaga tutto. Ma io dico anche qui il solito sistema, il solito modus operandi, polizia locale e poi chi si è visto si è visto. Cioè numerosissime segnalazioni fatte e rifatte, l'amministrazione comunale se ne strafotte, strafottenza. Cioè dire a me del cittadino che può cadere dentro non me ne frega proprio niente. Questo è il succo, questo è il risultato. Ditemi voi, a questo punto forse è il caso di chiamare i vigili del fuoco in modo che magari possano trovare una soluzione più sicura. Completo il discorso, visto che ci troviamo, parlavamo delle caditoie che si otturano, guardate, finiscono chiaramente per otturarsi perché questi aghi di Pini vedete vanno a finire qui dentro e quindi lo otturano, lo tappano e ovviamente poi quando piove non c'è lo sfogo delle acque, le acque non sfogano, non scendono e poi vediamo gli allagamenti e la strada bloccata, chiusa proprio per questi allagamenti che si sono verificati. una città abbandonata. L'amministrazione Melucci è assente, non amministra male, non amministra proprio, se ne strafotte.